ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video questo qui è un video che ho fatto una ricostruzione a mia mamma e questa volta ha scelto la forma a ballerina come avete visto alle unghie pare sul bianco lattiginoso perché ho usato il nuovo gel quello milky builder nuovo il nuovo gel che ho acquistato su passioni unghie e mi ci sono trovata bene fa questo effetto bianco lattiginoso molto bello mi piace veramente tanto faccio un po fatica stendolo come il creamy builder perché come densità più o meno pare la stessa e poi niente poi ho scelto questo colore che è ultra violet stupendo di passioni unghie il gel color nuovo del mese di marzo ovviamente due passate infine siccome l'ha voluto opache matt e quindi utilizzato il soft touch di passioni unghie stupendo ragazzi veramente la cosa stupenda e niente fine gli ho applicato questi tre brillantini con il gel colla sul medio sia sulla mano sinistra che sulla mano destra e quindi vediamo anche quanto dura e poi infine l'olio cuticole e scusate l'olio cuticole lucido easy gloss e infine l'olio cuticole e niente spero che questo video vi piaccia se sarà così metterete il pollice in su sotto il video se volete commentatemi fatemi sapere cosa ne pensate di questa ricostruzione che ho fatta mia madre e noi ci vediamo presto al prossimo video un bacio ciao 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 ciao